Buongiorno e bentrovati alla Rassegna Stampa, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Telenuna. Ieri 2 giugno era la festa della Repubblica, ricorreva l'anniversario della nascita della Repubblica italiana, è stata anche l'occasione per fare un po' il punto della situazione, sull'attività e sugli obiettivi del governo. Ha parlato il Presidente della Repubblica Napolitano e ha fissato quelli che sono i termini per gli obiettivi da raggiungere, ovvero le riforme che devono essere fatte, ha sottolineato il Presidente in 18 mesi, un tempo abbastanza lungo per poter effettuare delle riforme, visto che si tratta comunque di un governo a termine. Non ha voluto parlare Napolitano di una riforma proposta dal Popolo delle Libertà e dal Fano, che ieri in occasione dei festeggiamenti per la festa della Repubblica ne ha parlato, perché riguarda proprio la sua carica, quella di Presidente della Repubblica, ovvero questa nuova forma di semipresidenzialismo alla francese, così potremmo sintetizzarla per rendere meglio l'idea di quella che è la proposta di riforma del PDL, non ha voluto parlare Napolitano, dicevo, una proposta che prevede l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, anche alla luce di quelle che sono state le difficoltà nell'ultima elezione, una proposta che vede unanime il PDL, vede spaccato il PDL, questa non è certo una notizia, ma non è oggettivamente condivisa, sul netto no ci sono ovviamente le opposizioni con Sell di Vendola e il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Si faceva riferimento a quella che è stata l'ultima elezione per il Presidente della Repubblica, ovviamente bisogna evitare strumentalizzazioni del genere, perché quelle che sono state oggettive difficoltà dovute ad una legge elettorale pessima che ha prodotto poi una mancata maggioranza dopo le elezioni, quindi tutti i problemi che via via abbiamo visto fino ad oggi e ovviamente un fallimento della classe dirigente di quasi tutti i partiti che poi è sfociata in delle difficoltà enormi, in particolar modo che si sono viste tutte in occasione delle votazioni per il Presidente della Repubblica. Parleremo di cronaca, parleremo anche di quello che sta succedendo a Napoli, al Comune, si sbloccheranno le graudatorie del concorsone, si parla di nuovo di piazza del plebiscito, poi parleremo di calcio, Allegri è confermato, al Milan rinnoverà il contratto, a Napoli arriverà Benitez in settimana, ha parlato dell'Aurentis in lungo e largo su Twitter rispondendo alle domande dei tifosi, parleremo anche di mercato, c'è una piccola novità, una piccola indiscrezione che vedremo quando sarà il momento di parlare di sport, ma ora andiamo a vedere le prime pagine dei giornali con la prima del Corriere della Sera, che apre sulla questione semipresidenzialismo, la partita del presidenzialismo titola il Corriere della Sera, la spinta di Alfano dopo le parole di Letta sulle regole da cambiare, la sinistra è spaccata, Napolitano esecutivo a termine, 18 mesi per le riforme, quindi in primo piano c'è l'editoriale di Giovanni Sartori, aderisco all'appello sul sistema francese, ma con due varianti e poi la minaccia di Beppe Grillo andare in TV, noi la occuperemo dopo la riflessione dei giorni scorsi sul modus agenti del Movimento 5 Stelle che starebbe fin troppo puntando sul web, che non basta per le attività politiche. A centro pagina la fotonotizia per quanto riguarda il Corriere della Sera è dedicata a Praga, Praga riviva l'incubo all'ovione, morti e dispersi, paura in tutta l'Europa centrale per il mattempo, il Danubio si è alzato a livelli record, oltre quelli del 2002, acqua nelle strade, scuole chiuse, vittime dispersi, si alza anche la Moldava, quella che vedete in foto che riguarda Praga, per chi l'ha visitata è un fiume che spacca interamente la città in lungo e in largo e potete vedere a che livelli è arrivata l'acqua. A destra di spalle dalla prima del Corriere parla il Vice Ministro dell'Economia Casero, fisco meno aggressivo, entro giugno il Governo interverrà su Equitalia e poi ancora per rimanere in tema di riforma nessun aumento dei ticket più cure a casa e la spesa sanitaria regioni autonome e meno virtuose. Per anticipare quelli che saranno i temi sportivi, Berlusconi si convince, Allegri resterà accordo dopo una lunga cena. Il Presidente stima assoluta e reciproca. Prima del mattino, che apre ancora una volta sulla proposta del PDL un decreto contro la burocrazia, pronto il piano per le semplificazioni, meno vincolo ai documenti per far risparmiare alle imprese 8 miliardi, il via entro giugno. Presidenzialismo verso l'intesa PD-PDL napolitano, governo a termine 18 mesi per le riforme. L'intervista che propone il mattino è quella a Ceccanti, voto diretto e doppio turno. Questa è la strada per fare l'accordo per un sistema molto vicino a quello francese. Cliniche, lo scandalo di rimborsi, campani, interventi pagati senza l'autorizzazione, controlli su centinaia di strutture, in alcune case di cure effettuate in convenzioni e operazioni diverse da quelle che poi sono state accreditate. La fotonotizia del mattino, lo vedete in bici, è il Ministro dei Bene Culturari, arriva alla Reggia, la salverà. Sono andato a verificare quello che ho letto, ha detto appunto il Ministro. Dal taglio basso del mattino le ultime due notizie. In primo piano c'è ancora Praga, sott'acqua, morti e dispersi, vittime in Europa e sondano da nubi e reno. In Italia mal tempo fino a giovedì per una primavera che è davvero stenta ad arrivare. E poi per lo sport, De Laurenti, 63 milioni per Cavani, il tweet del Presidente con i difusi. Finora le offerte sono troppo basse, Berami e Zuniga resteranno a Napoli. Prima del mattino di Napoli, che apre sugli sblocchi delle graduatorie, Assunzioni al Comune si riparte, entro l'anno i primi 300 al lavoro, l'assessore, bando pubblico per reclutare nuovi dirigenti, ma saranno sbloccate le graduatorie per i 973 vincitori del concorsone, entreranno vigili e impiegati. In primo piano anche la festa per i 70 anni del Cardinale Sepe, che ha salutato tutti in un bagno di folla, c'erano circa 5 mila fedeli. E poi un altro caso, quello dei tifosi violenti, agenti accerchiati, follia ultrana, autogrill, gruppo di tifosi proveniente da Quarto, ha razziato l'aria di sosta sulla Napoli-Bari, 40 teppisti rubano gerone alimentari alta tensione dopo l'arrivo dei poliziotti. Approfondiremo questa notizia a breve. A proposito di sport e di connessioni con la violenza, in questo caso con la criminalità organizzata, caccia al boss, amico di Lavezzi, lo russo junior è in fuga da 3 anni, lo ricorderete in occasione di una inchiesta che è stata aperta proprio sul caso, era a bordo campo a vedere la partita, successivamente si è parlato di un rapporto amichevole con il Pocio Lavezzi. Scuole sul palco, dal taglio basso del mattino, gli studenti invadono il San Carlo in una kermesse dedicata a Verdi. Andiamo a vedere anche la prima del Roma, sfregio al Consolato tedesco, protesta contro la crisi nel gruppo il consigliere dell'ottava Municipalità Ivo Poggiani, croce con vernice nera sullo stemma, denunciati in 5, c'è anche appunto un politico. In primo piano ho scelto Benitez perché è un vincente, è uno dei tanti tweet di risposta ai tifosi di De Laurentiis, Rafa il monogamo è meglio di Walter Mazzarri nell'editoriale di Italo Cucci. Ancora due notizie dalla prima del Roma, gay celebrati a Napoli le prime nozze campane, a celebrarle presso la Chiesa Cristiana Ecumenica Cattolica Apostolica un ex diacono, protagonista una coppia formata da un quarantenne e un 39enne della provincia di Napoli. E poi a fuori grotta, villaggio preistorico nel Dimenticatoio, un villaggio di pastori e pescatori di Salenti a 4 mila anni fa, è sepolto sotto piazzale Tecchio, lì dove a quel tempo arrivava quasi il mare. Gli scavi della linea 6 della metro riportano alla luce alcuni reperti già nel 2006. Andiamo a vedere ora nei dettagli quali sono i fatti più importanti del giorno, apriamo sul caso Sanità che abbiamo visto dalla prima del mattino, autorizzazioni con il trucco, cliniche a rischio, niente nulla osta per gli interventi, scattano i controlli sulle case di cura, sono 1.500 le strutture che chiedono di lavorare con le ASL, un centinaio le escluse. Andiamo a vedere la scheda, come anticipavamo, le cliniche e case di cura che hanno richiesto l'accreditamento definitivo alla regione sono 1.500, 100 sono state escluse ma potranno ripresentare la domanda in virtù del decreto 50, le norme sono la delibera di giunta regionale che prevede un'utilizzazione sanitaria per strutture pubbliche e private. In odi da sciogliere, non tutte le strutture sono in possesso dell'una osta o ne hanno ottenuto soltanto uno parziale, molti centri operano sia il regime di accreditamento provvisorio che nel campo privato, ci sono dei controlli a tappeto, nelle case di cura che chiedono l'accreditamento e appunto sono giunti a questo caso. A proposito di case di cura, regioni, nidi e centri per anziani, in arrivo dall'Unione Europea ben 30 milioni di fondi, iniziative in tutta la campagna, previste anche case alloggio per ospitare donne maltrattate. Avanti con un'altra notizia, cambiamo argomento, riprendiamo la notizia vista in primo piano per quanto riguarda le assunzioni in comune e il concorso per i dirigenti, entro la fine di quest'anno possibili 300 innesti in organico, il bando pubblico per i quadri, gradatoria nel 2010 verso la riapertura, rientreranno in organico 973 vincitori che ovviamente sperano e poi l'intervista a Moxedano, valorizzare le risorse interne, incentivare per chi produce di più, Moxedano che spiega la strategia, occorre cercare risorse per gli stipendi accessori, il sistema non regge, ha detto Moxedano, con 160 servizi e solo 83 manager, tanti hanno più ruoli. Parliamo ora di Piazza del Plebiscito, dopo le tantissime polemiche che ci sono state anche in occasione del concerto di Springsteen su come valorizzare, su come trattare Piazza del Plebiscito in occasione dei grandi eventi, sia ai bar del Plebiscito, lo vediamo dalla pagina del mattino, ma ci vuole un piano, gli imprenditori subito un progetto, un bando pubblico per assegnare gli spazi sotto ai portici. Ha parlato anche di Trinchillo, per far vivere il luogo ci vogliono attività rigorosamente selezionate, poi c'è l'intervista a Valeria Velente, ex assessore del PD ai grandi eventi, la piazza è un bene comune, prezzi più popolari per i concerti, rilanciamo anche lo stadio per i mega show, non sono né con il sindaco né con Cozzolino, occorre trovare una soluzione per non restare fuori dai circuiti ed era una delle conseguenze più gravi, l'abbiamo visto la settimana scorsa dalle pagine dei giornali dopo le parole di Cozzolino di chiudere la piazza ai grandi eventi, ci sono state già delle ripercussioni con alcuni manager importanti in occasione di grandi eventi che dovevano essere fatti a Napoli, ha detto ci sposteremo a Salerno se continuerà questa polemica e se si fossilizzeranno su queste posizioni. Andiamo avanti, abbiamo visto il caso di difusi violenti e le razzie in autogrill, in 40 assediano i poliziotti, alta attenzione dopo lo stop in autostrada, una razzia in autogrill della Napoli-Bari, poi insulti e minacce. Abbiamo detto che si tratta di una squadra di quarto, gioca sul campo del club anticlan, ma è la squadra degli antagonisti, fondata meno di un anno fa, il gruppo si batte per il calcio a low cost e contro le pay tv, carabinieri e agenti della Dicos seguono da mesi le attività dell'associazione, si trattava di un amichevole da due squadre che doveva essere giocata a Lecce, ovviamente non si tratta della nuova quarto calcio per la legalità. Ancora avanti, rimanendo in tema di calcio, lo russo caccia al boss amico del Pocio, la primula rossa della camorra di Secondigliano viene protetta dalla rete dei contrabbandieri, è rieperibile dal 2010, una storia in ascesa all'ombra del padre pentito, era questa la foto in occasione di un Napoli-Parma dove lo russo junior era presente a bordo campo a vedere la partita, c'erano state alcune indiscrezioni che addirittura parlavano di una connessione proprio tra quella partita, le scommesse e il boss a bordo campo, in realtà era tutt'altro, c'era un'amicizia con il Pocio Lavezzi e per questo lo russo junior era a bordo campo. Il ritorno dei banchetti delle bionte sul mercato sigarette cinese e Ucraina, la crisi e i costi in crescita spingono molti fumatori a scegliere i pacchetti da 2 Euro, Napoli controlla il 50% del giro di affari nazionali fornitori nei quartieri di San Giovanni e a Forcella per il contrabbando di sigarette. Situazione Porto, ecco i cantieri che sono pronti a partire, fondali, bonifiche e collegamenti subito attivabili, lavori per 135 milioni di Euro, le opere non necessitano del via libera definitivo al piano regolatore portuale per il grande progetto sul porto di Napoli, Caldoro invoca segnali concreti, appello agli operatori, basta ora, basta liti. Altra notizia, che abbiamo visto già in apertura, il blitz in bici del Ministro, il titolare dei beni culturali ha verificato le condizioni di degrado del monumento, Brei risponde a tweet, ha verificato di persona le cose che mi avevate detto. Il Ministro Massimo Brei in bicicletta, che nella Regia è andato a controllare di persona, ne abbiamo parlato spesso anche dalle pagine dei giornali, la Regia che vive una situazione di degrado, vista una gestione poco consona a quella che è proprio la Regia, a quella che rappresenta, abbiamo visto una motocicletta già la settimana scorsa parcheggiata nel Palazzo Reale, l'assedio degli ambulanti, problemi per i turisti. 5 mila in villa per gli auguri a sepe, fedele in arrivo da tutta la campagna per festeggiare i 70 anni del Cardinale, un bagno di folla per sepe, applausi e musica sacra per l'arrivo del Cardinale Crescenzo Sepe in villa comunale da parte dei bambini, fedeli, turisti e sacerdoti. Nella Cassa Armonica celebrata la Messa per il Mistero del Corpus Domini e poi la processione con il corteo dell'Arcivescuo Don Tonino Palmese alla testa del corteo che ha guidato la processione che ha accompagnato sepe alla Cassa Armonica. Cambiamo argomento, cominciamo a parlare di politica e dei temi che abbiamo visto in apertura, cominciando con la questione presidenzialismo. Alfano spinge, ma la svolta spacca la sinistra e il Vice Premier dal PD arrivano spiragli significativi, spiragli significativi che sono quelli di Letta, che è aperto ad una riforma del genere, 37 giorni trascorsi dall'insediamento del Governo guidato proprio da Letta. In Italia per l'articolo 83 della Costituzione il Capo dello Stato, eletto da Parlamento e Istituto Comune, con più il voto di tre delegati per ogni regione, eletti dal Consiglio regionale in modo da assicurare rappresentanza delle minoranze. Nelle prime tre votazioni serve l'approvazione dei due terzi, per le successive basta la maggioranza assoluta. In Francia invece, che è il modello a cui il PD guarda proprio per questa riforma, il Presidente eletto a soffraggio universale diretto con eventuale ballottaggio in 14 giorni dopo il primo turno, se nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dal 2002, la durata del mandato è di 5 anni, prima era di 7 come in Italia, per ridurre i casi di coapitazione tra Presidente, uno schieramento politico e maggioranza dell'Assemblea nazionale, di segno opposto. E' questo, ripeto, il modello a cui l'Italia sta guardando. Sul fronte democratico, lo vediamo da un'altra pagina del Corriere della Sera, il fronte del No prepara la battaglia in direzione, letta non forse sui contenuti o stili bindi e giovani turchi, l'ipotesi di un documento. Era questa l'ultima notizia per la politica, noi riprendiamo dalle prime pagine, per cominciare a parlare di sport, in particolar modo parleremo di calcio, come nostro consueto. In prima pagina per la Gazzetta dello Sport c'è un accordo ritrovato tra Allegri e il Milan, cena di oltre tre ore con Max e Galliani, il Presidente Berlusconi che vedete in foto, alla fine conferma il tecnico, trovato un accordo sui diritti e doveri di società allenatore, si è parlato del gioco che la squadra dovrà fare il prossimo anno, la Roma vira su Blanca, avrà fatto cambiare idea anche proprio la squadra che doveva più accreditata ad ospitare Allegri sulla sua panchina, ovvero la Roma che l'anno prossimo non giocherà in Europa, è una squadra comunque da rifondare, da rifondare dal basso, con una società messa a ferro e fuoco, anche dalle proteste dei tifosi dei giorni scorsi, anche ieri ci sono state ulteriori proteste, una squadra che ha fallito proprio nella dirigenza, di spalla sulla sinistra, intrecci di mercato Inter, Zuniga e Berami, ma Napoli vuole Guarin, dalla Germania insistono, era questa l'indiscrezione di cui vi parlavo in apertura, Gomez ha un accordo con De Laurentiis, su di lui anche la Fiorentina, casa Juventus, a Madrid il 9 giugno per Iguain, Spunta Negredo, le panchine, Rindio a Palermo, San Nino verso il Chievo, il Sion saluta Gattuso, il Livorno torna in Serie A, Spinelli è per Morosini, raggiunge il Sassuolo e il Verona nella massima serie. Andiamo a vedere la prima del mattino per quanto riguarda lo sport, c'è De Laurentiis in primo piano con le risposte ai tifosi, un tweet per sognare credo nello scudetto, ha detto il Presidente, il nuovo tecnico studierà l'organico, l'interesse per la punta Gomez del Bayern è reale, Mazzarri due anni fa mi convinzi che sarebbe andato via, su Amsic ha capito che qui da noi c'è il mare più bello per quanto riguarda Benitez, ha detto il Presidente, lo presenterò il 21 giugno, ha scelto lui perché monogamo, sette anni a Liverpool per un grande progetto, un grande progetto come quello del San Paolo e Castelvolturno, eccoli i progetti di restyling, il padrone del Napoli non pensa solo alla squadra, presso nuovi cambi di allenamento nel nostro centro, il club in ansia perché entro il 30 giugno le opere devono essere completate per il visto UEFA. Ancora avanti con la prima della Gazzetta Edizione Campania, Napoli è tempo di scelta, il primo ok è per Armero, bisogna sciogliere quella che è la comproprietà, l'esterno verrà riscattato quasi sicuramente dall'Udinese con altri 3 milioni di Euro, c'è interesse anche per Calaio e il Caduri, ma si aspetta il sì di Benitez, ma è già quasi sicuro che non rientreranno Cigarini e Santana e i Baby in giro per i club italiani. La comproprietà per quanto riguarda il club azzurro dovrà discutere a partire dal 20 giugno e tratterà fino al 25 giugno Armero che è stato preso proprio per quest'anno, la stagione che verrà. Pagani e il Sorrento il giorno degli impianti, vince il Prado 2-1, raddoppio fallito e rigore negato, che peccato il Sorrento è l'unica ombra del calcio campano, con dispiacere che lo diciamo. Andiamo a vedere anche la prima del Corriere della Sera per quanto riguarda lo sport che titola su Allegri. Ancora Allegri per un anno, il Milan non cambia allenatore, Berlusconi gli dette i compiti, Sidorff costa troppo e non piace ai tifosi, la cena di Arcore si chiude con la conferma del Livornese. Poi nel taglio basso della stessa pagina si parla di mercato, Cavani e Giovedic il prezzo non è ancora quello giusto, il Napoli avvise i pretendenti del Matador, la Fiorentina ricorda alla Juventus che Giovedic costa 30 milioni. Andiamo a vedere ora le pagine più importanti, più significative del giorno. Per quanto riguarda lo sport, gli intrecci di mercato, Zuniga più Berami nell'Inter di Mazzarri ma Napoli vuole Guarin, Benitez chiede il colombiano per ora incedibile ma che può sbloccare i due azzurri, sempre calde le piste Gila e Belfodil. Anche se De Laurenti si è stato chiaro, Berami non si muoverà da Napoli, sarebbe una perdita eccessiva per il Napoli, soprattutto per il progetto. Per l'importanza che Berami ha dimostrato sul campo ed è strano che Mazzarri che è andato via da Napoli sta chiedendo praticamente tutto il Napoli a Moratti. City c'è la maxi offerta per Cavani, secondo il mattino Pellegrini punta sul Matador, scavalcato il Chelsea disposto ad inserire Torres per arrivare ad Edison Cavani, l'allenatore cileno a un passo dalla firma ha messo l'uruguaiano al primo posto nella sua lista di mercato. Andiamo a vedere anche la pagina della Gazzetta dedicata al mercato, De Laurentiis Cavani piace a Benitez più di Torres, ha detto il Presidente, dalla Germania con Gomez c'è l'intesa, per il Matador offerte più basse dei 63 milioni, il tecnico presentato il 21 giugno, sul bombe tedesco c'è pure la Fiorentina. Il Bild, uno dei più famosi e importanti giornali tedeschi, l'ha già annunciato che Mario Gomez andrà a Napoli, è quello che sbagliò il rigore a Napoli in quel Napoli-Bayern di Champions parato da De Santis, è quello che però fece tre gol a Napoli in un quarto d'ora proprio a Monaco nel ritorno. Napoli canta Fernando, il guerriero chiama per me l'ideale ho voglia di vincere, c'è un'opzione sul brasiliano fino al 31 agosto ma il mediano piace anche a Roma e Spartak Mosca. Chiudiamo su un'altra notizia, Amsic il numero uno della Serie A, finita la stagione ecco chi si è fatto notare nel bene e nel male, lo dice il Corriere della Sera, Muriel Eliaic per gli emergenti, Vitale e Boca Valero la coppia perfetta dei mediani e su Amsic che è il presente, sarà il futuro di Napoli, chiudiamo questa rassegna, era l'ultima notizia per oggi, venivano gli appuntamenti domani a partire dalle 7.30, un'ora più tardi a partire dalle 8.30, vi auguro un buon proseguimento di giornata con i programmi di questa rete.